Un giocatore di rugby della Benetton Treviso, che milita anche nella nazionale italiana, è stato oggetto di uno scherzo da parte dei compagni in occasione del Sigret Santa, un regalo di Natale a sorpresa che tutti i giocatori si scambiano negli spugliatoi, senza dire però chi ne è l'autore. E questo giocatore, Traoré si chiama, ha aperto il suo sacchetto e vi ha trovato dentro una banana marcia. Ora, il giocatore ovviamente, essendo il genio della Quinea, è di colore, tutti i compagni si sono messi a ridere, e questo insomma è stato un episodio secondo me piuttosto grave. Cioè, come se fa a regalare una banana marcia? Ma Santa Miseria è Natale, deve essere al limite matura, ma comunque edibile. Buon anno, buon Natale.